amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazione autosportive oggi parliamo di alfa per l'ennesima volta in questo caso alfa giulietta questo 1.4 turbo benzina quello da 88 kilowatt 120 cavalli forse uno dei più comuni che di solito ci capitano macchina molto recente il cliente ci ha chiesto di fare il classico stage 1 come abbiamo fatto già numerose volte quindi ve lo facciamo rivedere partiamo dallo scarico quindi questo è lo scarico originale che Mirko ha appena tolto questo è il tubo del centrale e quello è il terminale con l'uscita singola e quello che si vede qua dietro è l'estrattore che alloggia l'uscita singola ok quindi a questo punto abbiamo sostituito il centrale e il terminale con la doppia uscita duplex questa doppia uscita qua si chiama duplex in maniera tale da avere al posto che solo l'uscita sulla parte destra l'uscita dalla parte destra e sinistra il cliente l'ha voluta con le uscite da 102 brunite adesso Mirko sta finendo il montaggio e l'unica cosa che manca è appunto la bandella posteriore vi ho fatto vedere questa bandella perché rispetto alla bandella che andrà montata ci vorrà appunto la bandella della 1750 che è quella che già esce con le due asole avremmo potuto anche come facciamo spesso diciamo ricavare artigianalmente la seconda asola però veniva fuori un lavoro non corretto perché questa asola qui ha una nervatura e dall'altra parte se avessi dovuto realizzare il foro ovviamente non avrei potuto realizzare la nervatura quindi col cliente abbiamo convenuto di acquistare una nuova bandella appunto quella della 1750 sempre con il bordino rosso che a questo punto va a calzare perfettamente sulle due uscite del terminale ragazzon oltretutto spesso diciamo ai clienti meno andiamo a non dico rovinare o modificare in maniera permanente i pezzi e più c'è la possibilità in un domani di rendere il tutto reversibile cioè se io non vado a tagliare la bandella lascio al cliente i tre pezzi che abbiamo cambiato nel caso in cui volesse venderla soprattutto a concessionario cosa del genere è buona norma dire se volete io vi ripristino la situazione originale quindi dando indietro i vari pezzi clienti cosa che suggeriamo tutte le volte perché tante volte ci dicono no no teneteli voi dopo un po chiaramente le dobbiamo buttare mi raccomando tenetevi i pezzi perché quando andrete a vendere la macchina spesso vi chiedono di riconfigurarla come l'originale quindi a livello di scarico abbiamo fatto questo questo tipo di lavoro ovviamente lo scarico rimane omologato adesso la card è rimasta in macchina comunque la ragazza adesso dà la sua la sua card di omologazione con stampigliato il numero di serie del terminale e il tipo di macchina quindi è una omologazione specifica da tenere insieme nei documenti della macchina ecco Mirko me l'ha recuperata perfetto con anche la sua porta porta card ormai si sono evoluti quindi come ho fatto vedere più volte c'è il tipo di vettura e il seriale del terminale con questa uno fa vedere questo tipo di omologazione il problema è risolto stage 1 che abbiamo diciamo allargato con il classico filtro aria pannello in questo caso un bmc in cotone lavabile adesso non tiriamo giù la macchina comunque è un semplice filtro che va a sostituire il filtro originale in cartone con un filtro più permeabile in cotone lavabile e la centralina elettronica che stiamo riprogrammando perché per riprogrammare la centralina elettronica non si può questo modello qua non si può fare via seriale via presa obd che sarebbe molto più semplice sono centralina che bisogna smontare mettele su un banchetto apposito dove appunto si collegano i vari connettori viene scaricato il file ricaricato il file modificato bisogna proprio smontare e rimontare la centralina quindi adesso il lavoro dell'elettronica in corso d'opera non posso accendere la macchina perché ovviamente senza centralina non posso accendere la macchina comunque sostanzialmente il lavoro che abbiamo fatto fino adesso è questo ci manca appunto la bandella che dovremmo ricevere nei prossimi giorni e poi andiamo in consegna con con anche questa vettura il prossimo lavoro perché ovviamente non è che tutti i clienti possono fare tutto insieme il cliente ci ha già chiesto questo da gennaio in avanti di fare un lavoro di un intervento anche sull'assetto quindi prevediamo abbiamo già visto i componenti specifici si acquista un assetto sempre bilsten eibac in questo caso c'è un kit promozionale che si chiama b21 che consente di avere un prezzo diciamo ridotto rispetto al fatto di comprare separatamente molle ammortizzatori quindi nel b21 verranno montate quattro molle eibac pro kit e quattro ammortizzatori bilsten b8 quindi a gennaio vediamo se il cliente appunto proseguirà con questo progetto nel caso faremo un nuovo video di aggiornamento direi che per il momento è tutto come tutte le volte vi invito a consultare il sito www.9000giri.it dove troverete più di 3500 schede vettura quindi fra un po di giorni includeremo anche questa ci potete contattare telefonicamente io sono sempre disponibile dal lunedì a venerdì mi trovate allo 027383175 ma anche solo per semplici consigli per opinioni per qualunque tipo di richieste io sono sempre direi più che disponibile soprattutto vi chiediamo di cliccare sulla campanella e di iscrivervi al canale in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo un saluto alla prossima grazie